yoga per la gioia nada yoga la scienza moderna sta dimostrando che l'intera esistenza non è altro che un riverbero dove c'è un riverbero c'è sicuramente un suono quindi tutta l'esistenza è suono i suoni alla base di questa complessa amalgamazione di suoni sono a e senza l'uso della lingua tu saresti in grado di pronunciare solo questi tre suoni a u e mettendo invece la lingua in diverse posizioni all'interno della cavità orale riesci a combinare questi tre suoni e a produrre tutti gli altri suoni a u e m sono la base di tutti gli altri suoni che puoi pronunciare e sono chiamati i suoni di base o i suoni universali se pronunci questi tre suoni insieme ottiene il suono aum questi sono gli unici tre suoni che il nostro sistema può produrre naturalmente se pronunci questi tre suoni attentamente diversi aspetti del tuo corpo vengono attivati ed energizzati noterai che se pronunci il suono a le vibrazioni iniziano subito sotto l'ombelico e si diffondono in tutto il corpo perché questo è il solo posto dove tutti i 72 mila navi o canali di energia si incontrano e si ridistribuiscono questo è il centro di manutenzione del corpo e pronunciare il suono a lo rinforza se pronunci il suono u noterai questo punto dove la cassa toracica si unisce appena sotto c'è un punto morbido le vibrazioni fluiscono da qui e poi si muovono verso l'alto se pronunci il suono u vedrai che le vibrazioni inizieranno dalla base della gola e si propageranno nelle zone superiori del corpo pronunciare questi tre suoni ha innumerevoli benefici se soffri di problemi psicologici di qualsiasi natura come un'eccessiva paura una mente o un corpo instabile se la tua costituzione debole tendi ad ammalarti troppo spesso in particolare per i bambini che soffrono di un deficit di attenzione la pronuncia quotidiana di questi suoni per pochi minuti al giorno farà un'enorme differenza pronunciare questi tre suoni fondamentali attiva separatamente i tre lobby polmonari che a loro volta attivano le tre sezioni base del corpo quella inferiore quella centrale e quella superiore ponendo le basi necessarie per la piacevolezza del vostro essere o per un'esistenza gioiosa ecco alcune indicazioni per stabilire le condizioni ottimali di incrementare notevolmente la tua recettività alle pratiche per favore assicurati che il cellulare sia modalità silenziosa o spento è consigliabile non iniziare la pratica a stomaco pieno subito dopo un pasto per favore siediti con la schiena comodamente retta mani non incrociate con i palmi aperti queste indicazioni ti prepareranno ad entrare in uno stato di alta ricettività e ottenere quindi massimi benefici dalle pratiche queste pratiche sono molto sicure semplici e possono essere eseguite da chiunque le pratiche che impareremo possono essere esercitate da chiunque abbia un'età dai sette anni in su se porti gli occhiali durante le pratiche di yoga per favore rimuovili e tieni lì da parte sediti a cambe incrociate appoggia le mani sulle cosce con i palmi aperti e rivolti verso l'alto ascolta le indicazioni con attenzione prima di iniziare la pratica apri sufficientemente la bocca e pronuncia il suono esalando completamente l'aria nel suono faremo questo per sette volte dopo crea un cerchio con le labbra e pronuncia il suono esalando completamente l'aria nel suono faremo questo per sette volte dopo chiudendo la bocca pronuncia il suono pronuncia il suono sette volte mentre lo fai nota dove si producono le vibrazioni in quale parte del corpo il suono a genera le vibrazioni intorno al tuo ombelico il suono u nel punto in cui la cassa toracica si unisce ed il suono si concentrerà alla base della tua gola adesso facciamolo insieme mantieni i palmi delle mani rivolti verso l'alto e la colonna vertebrale comodamente redda per favore chiudi gli occhi ti sono ancora considerata di fantastico ti sono molto avanti e veramente uno anche a tutti i palmi delle mani rivolti verso l'alto e il suono si un'alto schifo una volta di un'alto schifo si un'alto schifo ti sono un'alto schifo e quindi dai AH AH A 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